Allora, ho messo innanzitutto come prima immagine una trincea per dar seguito un po' a tutta la categoria fronte trenches che tanti libri portano come titolo. È una trincea quello che viviamo tutti i giorni o che ho visto tutti i giorni? Beh in parte sì, sicuramente non come quella della prima guerra mondiale ma con sicuramente delle difficoltà. Allora parto un po' indietro con delle foto d'epoca, visto che chi mi conosce sa che oggi sicuramente non mi vesto così. Io nel 2009, fino al 2009 ho lavorato in assicurazione precedentemente ho fatto il consulente, dalle 7 di mattina alle 8 di sera lavoro, 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 lavoro non si sapeva bene su cosa perché era molto entropico, una metodologia che molti conoscono che è quella di chi urla di più vince e c'era un project manager insomma che ci aiutava, un bravo cristiano che però non sapeva neanche dove girarsi. Il mio ruolo era come da organigramma un team and tech leader, cioè quindi un po' tutto e usavamo tecnologie non proprio all'avanguardia. Non per sminuire dotnet che è il mio amore iniziale però sicuramente alla luce di quello che è oggi il mondo tecnologico era sicuramente un'altra epoca. perché sono andato via da questa azienda? Sono andato via da questa azienda perché non c'erano assolutamente stimoli. Tutto uguale giorno dopo giorno, nessuna visione e quindi diciamo che il sentimento di essere isolato rispetto al resto del mondo era molto forte e mi parla tutto molto a braccio, quindi diciamo non ero né seguito né riuscivo a seguire, quindi era una situazione veramente abbastanza, come dire, poco stimolante e quindi prendo la decisione sempre vestito bene di abbandonare insomma alla fine una situazione economicamente vantaggiosa perché le assicurazioni pagano bene rifacendosi sull'RCA probabilmente degli assicurati e in piena crisi dei mutui subprime decido di andarmene perché comunque sia non vivevo bene in questa azienda. Quindi entro in questa nuova società, una società grossa, una società che si è appena fusa con altre sette, una realtà molto dinamica e io sono ritornato, non ho mai smesso di sviluppare però diciamo che non avevo un compito di alcuna responsabilità, ero uno sviluppatore, quindi è stata una fase veramente molto bella perché ritornare poi proprio a focalizzarsi solo sullo sviluppo è stato molto interessante, soprattutto in una realtà così tecnologicamente diversa che permetteva di fare un cammino veramente importante. I team erano su base storica, quindi se un team aveva seguito per dieci anni una cosa l'avrebbe seguita per i successivi di dieci, quindi non c'era un discorso come in agile abbiamo di team, di prodotto o quant'altro. Sicuramente c'era un'entropia tecnologica, ce n'era tanta ma sette società che si fondono in qualche modo creano un'entropia, creano un disordine. Un team molto importante numericamente perché insomma eravamo più di 250, quindi sicuramente molto più ampio rispetto a quello che vivevo prima. E dopo un anno mi ritrovo vestito ancora così, non mi ero mai cambiato in realtà, però ritorno ad essere team leader. E anche qui una metodologia, sì anche qui chi urla di più vince, però c'era comunque un ruolo di project manager, il project manager era visto comunque come un ruolo efficace, quindi la differenza è che c'erano più project manager che insistevano su di me e sul team. E avevo sempre lo stesso compito, sempre con le stesse tecnologie perché in un anno sicuramente non mi sono evoluto come avrei voluto e anche qui non esistendo nessun altro ruolo ero un team leader e il tech leader. Questo era lo schema di allora, quindi più PM che incidevano di fatto su di me in qualità di responsabile e incideva anche il direttore di team, ma non per questioni esoteriche, perché stavo seguendo delle cose direttamente con lui, quindi diciamo molto standard, molto classico, però di sicuro c'era Monteltropia anche per decidere cosa si doveva fare. Quindi i sentimenti che provavo in quel momento erano sicuramente che pensavo di essere responsabile di tutto e di tutti, quindi avevo questa forte apprensione di essere proprio responsabile nel vero senso della parola, cioè se le cose andavano male era colpa mia, se le cose non andavano in una certa direzione ero io responsabile, non delegando di fatto nulla, ma non per cattiveria, ma perché in un momento di stress e di paura si tende comunque a chi fa da sé fa per tre, anche se è sbagliatissimo. Io ero molto giovane rispetto ad altri, ho già 40 anni, insomma ai tempi c'erano, la maggior parte delle persone del team avevano 10 anni più di me, comunque con molte più esperienze di me, una forte pressione sul risultato visto anche la recente fusione, frenesia, frenesia si doveva fare tanta roba, c'era tantissime cose da finire e pochissimo tempo come in tante realtà e soprattutto non ero abituato a un contesto così enterprise, soprattutto nelle pratiche e nelle dinamiche, pratiche vuol dire best practice, nello sviluppo, ma nelle dinamiche che un'azienda così grossa, che oggi ha 3.000 dipendenti, innesca, che non sono sempre semplici e riconducibili a relazioni magari sane, magari semplici e in tutto questo io dovevo evolgere, evolvere tecnologicamente perché non potevo rimanere in quello stato troppo tempo. Nel 2013 la terapia d'urto, una terapia d'urto insomma con un coach che ringrazio ancora oggi, Fabio Armani, che molti di noi conoscono, che insomma l'ho visualizzato così per chi lo conosce e che ha fatto un forte lavoro sia su di noi, Scammaster, in particolare su di me, ma anche sull'azienda che aveva bisogno di uno shock. L'azienda decide di trasformare in toto i gruppi che stavano seguendo questo percorso da team leader a Scammaster, perché il problema principale è da dove partiamo se non abbiamo una base di partenza, quindi io alle 9 ero un team leader a 9 e mezza, un attimo prima del corso ero diventato uno Scammaster, ma è letto così sulla carta, che non è un problema da poco, perché poi se il giorno dopo ti chiamano Scammaster e tu comunque hai dei compiti da team leader, poco cambia. Il momento è stato sicuramente disruptive, perché quando in una società si cerca di avviare un percorso di questo tipo, sapete tutti che le logiche sono molto difficili da smantellare, sono logiche stratificate nel tempo, basate principalmente sulla paura di dove si andrà a finire, quindi quale sarà il mio ruolo, avrò ancora un lavoro, per alcuni è una domanda che si fanno, perché se domani il project manager resiste più, io servirò ancora. Allo stesso tempo anche team leader che evidentemente vedono che non sono predisposti per un lavoro quale è quello di uno Scammaster o di un coach, quindi ho trovato importantissimo il fatto che ci fosse un coach, meglio se esterno in queste fasi, che seguisse i coachi, in questo caso io come altri, creando quindi un piano di sviluppo personale che avrebbe portato poi un piano di sviluppo dei team e quindi poi in maniera frattale in qualche modo uno sviluppo aziendale. Cosa pensavo quindi? Le classiche domande che mi sono fatto e che ho sentito anche fare in tanti anni. Nel momento in cui si cambia, arriva una persona e ti dice da domani lavoreremo così, che è il totale opposto rispetto a quello che tu hai vissuto per anni, la domanda che non si fa è ma anche se io spingo in questa direzione comunque sarò da solo, quindi la mia forza dirompente sarà molto limitata e spesso si sente anche dire sì ma tanto cosa vuoi che cambi? Che sono domande che io stesso mi facevo, però oggi sentire da altri fa male al cuore perché comunque, spiegherò meglio, penso di lavorare in un'azienda che permette veramente tante cose e di vivere anche serenamente la giornata e di crescere. Poi l'altro problema è ti vengono sparati in faccia milioni di acronimi, metodologie, framework, best practice, tutto deve essere fatto perfettamente, ma come faccio io proprio ad apprendere queste cose qua, cioè il tempo materiale, ma soprattutto il tempo di digerire queste cose qua e praticarle perché comunque sia quando uno studia una pratica, poi la mette in pratica e sbagliando più delle volte come è normale, no? E la paura di sbagliare è un altro tema importante, quindi quando tu hai gli occhi puntati addosso e ti si chiede una performance, se ha un coach o uno scammaster viene richiesta una performance che spesso è slegata a quella del team, no? Quindi in una prima fase ho visto spesso anche su di me fondamentalmente direi ero io responsabile se il tutto, fare in modo tale che tutto funzionasse, che è un po' il fatto poi di alla fine sentirsi responsabilità di tutto di tutti come dicevo prima, quindi questa è una paura bruttissima perché non ti permette di evolvere da nessuna parte, quindi avere un ambiente che ti permette di sbagliare è necessario perché se non fai non sbagli e sono frasi stupide che diciamo così in modo di dire ma alla fine è così, se a ogni sbaglio viene additato, c'è blaming, c'è quant'altro è impossibile evolvere da qualche parte, ma soprattutto in tutto questo, in questa trasformazione che dici qua, aveva delle numeriche importanti, dove troverò il supporto? Perché io lo posso pretendere dal coach esterno perché diciamola, è pagato per applicare insegnamenti, training, dare supporto, però di fatto il coach esterno poi va via, tu rimani all'interno dell'azienda con le tue forze o con le forze di alcuni colleghi o amici che stanno intraprendendo lo stesso percorso, ma non necessariamente puoi ottenere supporto dal tuo responsabile che a sua volta è all'interno di una trasformazione, pensiamo ai manager, molto più radicale in cui il middle management è molto messo in discussione e solo oggi forse gli stiamo dando la dignità giusta e corretta. Quindi io alla fine mi sono detto, ma io oggi che consigli darei a me stesso di sette anni fa? Allora innanzitutto la prima cosa è, ma mi interessa veramente fare questo percorso perché ho scritto non c'è peggio scammastra di chi non lo vuole fare, cioè di fatto se non ti piace otterrai risultati scarsi e a volte puoi fare peggio, cioè puoi ottenere degli svantaggi. Quindi noi siamo partiti col fatto come vi dicevamo, vi dicevo che i team leader sono diventati scammastra ma una quota a parte e poi si è resa conto che non era il proprio ruolo e quindi ha fatto altro. L'altro punto che io ho vissuto, ma perché arrivando da un'idea comunque classica della progressione professionale, cioè quella dell'organigramma, alla fine non diciamoci balle, nel momento in cui uno sale nell'organigramma pensa che la sua carriera sta crescendo. Quando questa cosa viene a smontarsi, perché comunque il ruolo dello scammastra non è un ruolo di governo o meglio, di governo o di persone nella classica maniera, uno deve anche fare pace col cervello e dire va bene. Ma questo è l'avanzamento di carriera o no? Nel momento in cui ho capito che non lo è, sono disposto a delegare e perdere il potere, che poi è il grosso delle persone che si trovano, nel mio caso anche, il fatto di fidarmi totalmente nei confronti dei team, ma anche del resto dell'organizzazione, però ho scritto anche per innescare qualcosa di più grande. Una volta che ci si rende conto che il proprio piccolo aiuto permette di migliorare il sistema e quindi noi stessi, come dicevo a Dimitri prima, otterremo un vantaggio, è importante appunto capirlo. Voglio studiare, io ho sentito tante volte, in questo caso non è una mia affermazione, però è mai tanta roba da studiare io quando la faccio e qua forse la differenza motivazionale fra chi effettivamente ama questo mestiere e chi lo deve fare, perché chi lo ama come qualsiasi cosa gli dai il tempo giusto e quindi alla fine studiare non diventa un peso, anche studiare fuori dall'orario di lavoro, che come succede nel 99% dei casi, perché durante l'orario di lavoro devi comunque lavorare. Sarebbe interessante cominciare a mettere questi percorsi di studio come se facessero parte integrante del tempo di lavoro e soprattutto accettare il feedback. Io mi sono ritrovato personalmente ad avere dei feedback e poi alla fine prendermela perché io pensavo di fare bene. Accettare il feedback è una cosa molto importante, sembra anche qua molto stupida, molto semplice. Si dice che quando si studia coaching executive che il feedback è un dono, cioè quando una persona ti dà un feedback sta rinunciando, sta mettendo in discussione il rapporto che hai con te perché sai che potrebbe anche offenderti, quindi è un dono che ti fa. Prendere un feedback e soprattutto chiederlo e accettarlo ed elaborarlo è la parte fondamentale soprattutto in questa prima parte. Come imparare? L'altro problema perché nel mondo agile si parla di ombrello agile, a quanti framework siamo arrivati, discipline, best practice, tantissime. E quindi effettivamente imparare quello che ti serve è già difficile. E' meglio concentrarsi su qualcosa che poi puoi mettere in pratica piuttosto che leggerti 18 libri e poi fare le cose con meccanicità. E' sicuramente meglio. Devi trovare un mentore. Mentore è proprio la persona, cioè a differenza del coach, il mentore è la persona a cui tu esponi dei problemi e lui ti dà delle soluzioni a differenza del coach che ti aiuta a trovarle perché sa che tu le hai. Quindi può essere interno, può essere esterno, può essere una persona che non c'entra niente con quello che stai facendo ma è semplicemente una persona che ha avuto un percorso professionale magari molto vicino, ma è soprattutto qualcuno che ti accolga come coachee. Quindi una persona che a sua volta ha piacere nel condividere queste cose con te e anche con cui stringere poi comunque un legame. Parliamo di IAM, parliamo di eventi. Io partecipo a molti eventi, ne facciamo e penso che siano veramente una risorsa infinita. Se pensate a quante cose si possono imparare a YAD, cioè in così poco tempo e con così tanta focalizzazione è veramente istruzione gratuita e quindi dovete sicuramente partecipare di più ma anche partecipare attivamente appunto perché questa cosa rimanga in piedi. E l'altra cosa che ho fatto molto è andare da altri team, altri team che magari avevano iniziato prima o anche che hanno iniziato dopo, ma semplicemente per avere un pensiero laterale rispetto a quello che era il mio modo di facilitare ad esempio. Quindi io ho il mio modo di facilitare le retrosperti, i voi eventi, che è il mio e noi non vogliamo cloni in azienda, non vogliamo che tutti facciano la stessa retrospettiva, la serie di retrospettive. Noi vogliamo persone che siano in qualche modo artiste, inteso di generazione di idee e quindi andare a frequentare altri team, se te lo permettono, è sicuramente un qualcosa assolutamente importante. Con Agile for Italy un giorno ci siamo messi a scrivere quello che vi dicevamo prima e cercare di capire cos'è l'ombrella Agile per noi ed è venuta fuori questa mappa, un po' stile metropolitana. Effettivamente per una persona che fa un corso e gli arriva in faccia tutta questa roba qua, va bene, la dai da dove va Arto. Quindi anche soltanto mettere in ordine le cose per cui è necessaria una consapevolezza per fare un passaggio successivo è già un passo difficile e purtroppo il tempo che viene destinato al training da parte per esempio di un coach esterno è limitato per motivi di budget perché se dovesse stare a spiegare tutto questo mondo qua starebbe dieci anni a far training. Però io penso che sia molto più importante praticare che appunto ricevere così tante informazioni che non si riescono a comprendere. E quindi alla fine in maniera molto semplice davanti a un problema ho preferito trovare una persona, in questo caso un mentore che potesse darmi un consiglio, ma soprattutto praticare solo quello che era necessario in quel momento e tenere ciò che funziona e ciò che non funziona. Questo perché non è necessario utilizzare tutto. Se io studio Popcorn Flow cioè non è che obbligatoriamente devo usarlo. Se ho necessità lo uso, poi una volta che l'ho usato potrei scoprire che non fa il caso mio e non c'è niente di male a non utilizzare una pratica piuttosto che l'altra. Nelle fasi di Shua Ri, che penso che conosciate, quindi la fase in cui fondamentalmente io faccio a bacchetta quello che dice il coach. Nella fase A io sono autonomo, abbastanza autonomo e il coach mi dà dei feedback importanti di aggiustamento. Nella fase Ri fondamentalmente è una mia consapevolezza tale per cui rivedo totalmente anche cose come potrebbero essere Scrum, perché una cosa che ho imparato in questi anni è che Scrum puoi anche non farlo. Non è che se non fai Scrum non stai facendo Agile, se non fai Scrum non hai la dignità di essere un coach o uno Scrum Master. Se ti chiami Scrum Master dovresti fare Scrum, per carità di Dio. Però non c'è l'obbligatorietà nel momento in cui sei in una fase di consapevolezza. Quindi evitare assolutamente il meccanicismo e il localismo, che è una di quelle cose che le dinamiche enterprise mi hanno insegnato. Cioè, se il mio team va bene e un altro team non va bene, è un problema anche mio. Perché poi all'interno di una filiera, di una pipeline di processo, di sistema, anch'io ne subirò le conseguenze. Quindi è un mio compito da Scrum Master quello di aiutare gli altri affinché le cose si assestino e le migliorino sempre. Nel 2016 la svolta della mia vita professionale. Quindi è per quello che dico molto intimista. Io mi sono trovato in una situazione molto sfidante, umanamente. Nel senso che mi sono trovato, un giorno dissero che gli applicativi che avevamo fatto in tanti anni che ero lì, perché era già sei anni che ero lì, non erano adeguati. Quindi primo punto, l'orgoglio. Perché quando uno ti dice che l'applicativo che hai fatto non va bene, sfido chiunque a prenderla bene. Viene chiamato un fornitore esterno molto grosso, importante, non preparato. Erano 16 ragazze appena usciti dall'università che non conoscevano la piattaforma di sviluppo che dovevano implementare. ed era la classica situazione in cui l'importante è arrivare alla data, in qualunque modo, con qualunque qualità, con qualunque cosa. È stato deciso di prendere questa azienda di consulenza e metterla a fare il front-end, senza entrare ai dettagli. Noi eravamo rimasti al back-end, creando già un antipattern, insomma che col senno di poi, già sapevo che non sarebbe andato bene e non avrebbe fatto altro che creare dei lock fra il front-end che aspetta il back-end e il back-end che non sa quello che vuole front-end e viceversa. E poi mi sentivo sempre dire, ma già per queste cose non va bene. Cioè noi stiamo facendo le cose serie e che era una roba che mi, ma questo non me lo diceva la mia azienda, mi diceva il fornitore, che era una roba che mi veramente mi faceva molto imbestialire. Su cui oggi se qualcuno me lo dice io non batto ciglio, perché insomma diciamo che anche qui ho una certa consapevolezza del fatto che funzioni in qualche modo. Quindi alla fine io mi sono posto la domanda, ma io in questa azienda rimango e vado via. Con una mia componente molto umana che è quella del rispetto al collegamento col team, in quel caso era un team, ma nel momento in cui io me ne vado, però il team cosa pensa di me? Cioè sembra un po' la fuga, la ritirata di Caporetto e quindi insomma era una bella domanda. L'altra alternativa era aspettare il cadavere a Valles. Conscio del fatto che questo progetto non sarebbe andato on time on budget, una tecnica è quella di aspettare e dire vabbè vedete che avevo ragione. Però mi sono posto anche una domanda, questa è una situazione in cui posso dimostrare qualcosa, il famoso senso di emergenza in cui si parla in Accelerate ad esempio, è veramente una situazione di emergenza nella quale si può cercare di fare le cose diversamente e poi sempre la ricerca di un supporto che è molto importante sicuramente, non necessariamente nella mia area, ho cercato supporto un po' ovunque. Insomma alla fine io sono entrato in un loop mentale in cui non mi interessava più, io ho detto male che vada me ne vado. E quindi per come sono fatto io, per come sono nato io, ha tolto totalmente la paura di sbagliare, ha tolto totalmente il fatto di dover dimostrare qualcosa agli altri nel senso di mie capacità. Io volevo arrivare a un goal che era quello di affermare che Agile funzionava e aiutare e costruire insieme al team la loro strada nel futuro, una volta che appunto questo fornitore sarebbe andato via come in tutti i progetti. E quindi quello che ho fatto con l'aiuto anche di altri è stato quello di innanzitutto visualizzare immediatamente il lavoro del fornitore, che faceva le cose veramente a braccio, in modo tale da far vedere anche ai dirigenti, ai manager quello che stava succedendo. Quindi l'importanza di visualizzare che non è il classico il muro di post-it che sminuisce questa cosa, è proprio visualizzare il lavoro, cosa c'è che manca e già il fatto di chiederselo, insomma è importante, il fatto di non chiederselo ci fa sbattere contro un muro. Imparare immediatamente questa nuova piattaforma che era totalmente fuori da quello che era la nostra classica maniera di sviluppare, proprio in termini tecnologici, era molto meno da nerd, diciamo, noi abituati a scrivere riga per riga di codice, è una piattaforma e quindi pensavamo fosse di serie B. E il senso di emergenza, quindi attenzione che così non ce la facciamo, è purtroppo il controllo, il controllo che io ho deciso di innestare nei confronti di questo fornitore perché comunque sia nel momento in cui non c'era auto-organizzazione e responsabilizzazione era necessario controllare per avere trasparenza di quello che stava succedendo. E in quel momento a me è cresciuta la grande faccia di tolla alla fine, nel senso per lo slide precedente, cioè visto che mi ero posto la domanda se rimanero ad andare via, alla fine potevo dire quello che volevo, no? È un po' come mio nonno quando alla fine, insomma, a un certo punto gli lascia passare tutte. Quindi alla fine la via Crucis qual è stata, insomma, cos'è successo? Il prodotto è andato in linea in tempo ma ovviamente difettoso. Abbiamo chiesto al manager di questa società di andare via, di essere allontanato perché non innescava delle, come dire, delle relazioni buone. Ho chiesto personalmente di unire il team di interni ed esterni ed essere io il coach nella loro interezza perché comunque era quello il team vero. Ho fatto formazione agli esterni, che è una cosa su cui io vi spingo, che vi spingo a fare, che è una cosa, se ci pensate, assurda perché nel momento in cui chiami una persona dall'esterno dovrebbe essere la persona dall'esterno a saperne più di te, giusto? Nel momento in cui tu fai formazione, in questo caso parliamo di formazione agile, la cosa stona un po'. Però alla fine è il risultato che serve, il risultato è dobbiamo lavorare meglio. Ci siamo buttati dentro sviluppando direttamente noi e pian piano il team esterno è diminuito fino a diventare completamente autonomi. Una delle mie più grandi soddisfazioni, non sono stato io a parlare, ma Davide Casari, è stata quella poi di essere chiamata da questo fornitore, che vi assicuro non è proprio piccolino, per parlare poi di un caso di successo che è stato. Io non facevo neanche più la coach a questo team che è diventato autonomo, però il fatto che questa cosa partiva da tanti anni prima in qualche modo mi ha, è una di quelle cose che ti dice, vabbè vale la pena, no? Quindi vale la pena vedere Davide che parla davanti a tante persone di un successo di questo tipo. E quindi alla fine quali sono i punti che mi porto a casa? Dobbiamo capire realmente quali sono le paure che ci impediscono di uscire dalla zona di comfort, anche qua sembra una fase molto semplice. Nel mio caso era la paura di sbagliare, la paura di essere valutato negativamente. Noi dobbiamo accettare il fatto che possiamo dire delle cose negative, non dobbiamo per forza piacere a tutti. E una volta che ci liberiamo, nel mio caso questa, sicuramente prendiamo sicurezza con noi stessi e la trasmettiamo agli altri, che è molto importante perché tu puoi essere il più grande esperto di fisica quantistica, ma se non riesci ad esprimerlo con sicurezza e fermezza, sarai sempre uno che parla del covid e del 5G. Cioè nel senso, adesso è un periodo un po' così strano scientificamente, però riuscire a capire chi è effettivamente capace, da chi non è capace, passa anche dal fatto di poterlo comunicare con sicurezza e competenza. L'appoggio è necessario, non esistono lupi solitari che possono in qualche modo cambiare qualcosa. Bisogna per forza creare una massa critica che insieme permetta di cambiare l'intero sistema. Non è possibile avere uno scanmaster impreparato, dove l'impreparazione non è non aver studiato, l'impreparazione è proprio anche negli intenti, non aver capito le logiche, al di là dello studio, delle teorie e delle pratiche. Quindi è un piglio, non so come possiamo chiamarlo, che deve necessariamente esserci. Non è ammessa ignoranza nel momento in cui tu metti in discussione la fine della tua vita professionale e quella di altri. È necessario sempre dimostrare le cose. Agile si parla sempre di metriche, ma pochissimo ho visto e io primis. Dimostrare con numeri se effettivamente c'è un miglioramento oggettivo da poter portare a dimostrazione. Lo scanmaster e il coach deve necessariamente essere una persona empatica, non può essere una persona esterna, ha le dinamiche emotive, perché in qualche modo quando si è in una retrospettiva, concorderete con me che il 90% delle volte si parla di faccende umane, il 10% è qualcosa di pratica. E poi avere una visione per se stessi che non è io diventerò CEO dell'azienda, è una visione proprio professionale, dove voglio, come voglio essere, non dove voglio essere, per te e per i team che segui. È importante costruirla per te e insieme al team. Quindi alla fine io oggi cosa sono? Sono un po' un funambolo che necessariamente deve avere un piede nella tecnologia e un piede nella metodologia. Io non sono di quelli che pensa che si possa dividere temi legati, io sono in un ambito fortemente tecnologico, non posso essere una persona che non ne conosce di tecnologia, perché non capirei le dinamiche e i problemi che ci stanno dietro e quindi non potrei risolverlo. Non sto parlando del fatto che io sia il miglior sviluppatore, ma non posso essere una persona assettica rispetto a questo argomento. L'ambito metodologico, ovviamente. L'ultima fase, divulgare. Noi abbiamo costruito insieme a tantissimi altri una community of practice interna con tantissime persone e quello è sicuramente un momento molto disruptive per te che ti metti in discussione, ma soprattutto per l'azienda che comincia a capire determinati concetti. Quindi la divulgazione, come diceva Dimitri, per me è faccenda fondamentale nello sviluppo personale. Attraverso il fatto di poter far crescere altri leader. Questo è un altro scoglio. Se faccio crescere un altro leader sto aiutando il sistema, non sto togliendo qualcosa a me, che è molto importante. E la sfida invece che negli ultimi anni portiamo avanti e porto avanti anch'io è uscire dall'IT. Perché comunque in ambiti tecnologici l'agile è vista come una cosa solo per gli sviluppatori. In realtà è un ecosistema che necessariamente deve uscire dall'IT per far sì che tutto funzioni al meglio e non solo ci sia un progresso locale. Divulgazione, YAM ovviamente, chi mi conosce sa che c'è Agile for Italy col podcast, A Better Way che è la community Cerved e Agile Italia che è la rivista. Oggi la mia situazione è così concludendo. Io ho un organigramma, sono in un organigramma come tutti e quindi la parte alta è come sono visto assetticamente all'interno dell'azienda. Però nell'azienda in cui sono è stato fatto un passo molto coraggioso, cioè quello è il fatto di cominciare a creare un sistema più cross funzionale. E quindi alla fine io oggi dove mi trovo, questo numericamente sono i team di cui io sono manager, perché rispetto a qualche anno fa sono diventato formalmente un manager. E quindi sono cresciuti per fortuna altri leader che a loro volta fanno gli Scrum Master e i coach, non posso seguire tutti, sarebbe inutile e stupido, perderei il mio tempo e farei perdere il tempo agli altri. Io mi ritaglio sicuramente sempre, costantemente, un'esperienza da coach, quindi puramente metodologica, e un'altra in cui io non faccio lo Scrum Master e faccio il Dev, puro Dev, quindi in cui è un altro Scrum Master e questo è un altro step fondamentale. Quando vedi un altro Scrum Master farti da te lo Scrum Master, insomma accettare il fatto che è la persona che lo sta facendo, quello è il ruolo, leadership di contesto e tu hai un altro ruolo in quel momento è molto importante da accettare. Ovviamente, vista la modalità enterprise in cui siamo, abbiamo anche la possibilità di sperimentare veramente tante cose, quindi questo è un dono. Scrum e Kanban ovviamente, però anche framework di scaling, quindi nexusless e poi comunque molti di noi hanno seguito il percorso di management tra zero. Quindi, l'importanza di far crescere leader, l'importanza del supporto, io li nomino perché comunque non c'è dietro una promozione, diciamo, se li nomino, Antonello Mantuano che è il CTO, che è mentore e mi fa sempre challenge, mi mette sempre in discussione per farmi effettivamente ragionare sui temi. Andrea Ferracco che era il mio ex manager, il mio ex responsabile, che mi ha fatto fare realmente ciò che volevo, che è la cosa fondamentale, avere libertà totale, soprattutto per sbagliare e poi soprattutto ha avuto un ruolo di grillo parlante, di persona che davanti a certe scelte ha detto sì però sei sicuro e poi vabbè Pierpaolo e Davide per la Jeffery Italia che è comunque un'altra avventura. Quindi conclusioni, devi per forza buttarti nella mischia e trovare nuove sfide, altrimenti non crescerai mai, devi trovare dei responsabili che abbiano fiducia in te, voi mi direte sì ma io ho quello di responsabile e trova neanche altro, non necessariamente deve essere il tuo responsabile, ma una persona che abbia capacità di leva all'interno dell'organizzazione per far sì che avvenga qualcosa. Io personalmente dico non è possibile scollegarsi dalla tecnologia, studiare tutta la parte di coaching vera che con la judge entra anche poco, quindi proprio il coaching vero, creare un network divulgare e soprattutto mettere da parte il tuo ego perché insomma ho messo la trincea perché in qualche modo è anche un percorso molto complesso. Quindi oggi alla fine sono così con la Polo, non che sia un tratto, è un mio tratto istintivo, sono libero dalla paura di sbagliare che è stato un grosso problema in tanti anni e non ho più paura di quello che succederà, che era un altro problema che mi bloccava. Mi definiscono se vero ma giusto ma di base sono sempre pirla perché comunque insomma mi piace vivere un ambiente lavorativo scherzoso, leggero perché altrimenti se dobbiamo vivere male la giornata ma andiamo all'altra parte. Questi sono i miei riferimenti e vi lascio insomma, secondo me è l'ultima considerazione che faccio, insomma prendiamoci un po' meno sul serio, questo è il mio, quello che dicevo sempre pirla, prendiamoci meno sul serio e condividiamo con gli altri la nostra passione che è quello che stiamo facendo in questo momento anche e soprattutto dobbiamo capire che nelle relazioni umane che fondiamo la nostra crescita personale perché passa necessariamente dalle relazioni umane e non da meccanicismi o processi o comandi che possiamo dare agli altri. Io vi ringrazio.